Mi dispiace perché la sconfitta a Roma ci sta, è una squadra forte, però credo che noi oggi li abbiamo un pochino aiutati a vincere questa partita. Quindi il dispiacere è aver, tra virgolette, apparecchiato i primi due gol e magari avrei preferito che li facessero da soli perché poi sono bravi e potevano farli comunque. Quindi questo è il dispiacere più grande. Quello di aver creato delle situazioni ne ero sicuro perché la squadra poi ha la forza per creare problemi a tutti e così è stato. È normale che dovevamo rimanere dentro la partita senza andare in doppio svantaggio perché poi una squadra come la Roma, per qualità tecnica, per personalità, per fisicità, ti chiude un po' le ripartenze e diventa difficile poi andarla a riprendere. Non credo che la mia squadra soffra di presunzione. È stata una giornata negativa, negativa negli episodi che la Roma è brava a sfruttare perché ha qualità immense. Quindi al tuo errore loro fanno 1-0. Non c'è la possibilità di errore. Dopodiché trovano il secondo con un'altra giocata in uscita sbagliata e queste squadre poi giocano sugli errori di quelle, tra virgolette, piccole. E dopodiché la partita la mettono sul binario che vogliono loro, hanno la forza e la personalità. Quello che noi dovevamo fare è non regalare. Solo quello. Purtroppo oggi la giornata è stata un po' storta. Non avevamo tante opzioni per poterla cambiare con giocatori offensivi e quindi poi diventa ancora più difficile. Grazie.